Benvenuti amici, io sono Salpimpos, oggi siamo su Resize It Un gioco dove dovremo risolvere i vari livelli rimpicciolendo oppure ingigantendo le cose Visto che abbiamo una pistola che riesce a fare tutto ciò E magari esistesse veramente una cosa del genere Con questo ovviamente ammiriamo il nostro obiettivo Rimpiccioliamo questa statua Make it small, quindi rimpiccioliamola Per trovare l'entrata appunto alla nostra caverna qua A posto, che c'è la nitizia che vuole ammazzarmi Attenzione, new laser che si sblocca fra quattro livelli penso Ok, intanto andiamo però, guarda quello che c'è qua Jag to aim, allora, take diamond Ovviamente all'inizio vi dice cosa fare, però dopo no Quindi, eventualmente che faccio, ingrandisco No, dobbiamo prenderlo Ok, ingrandisco questo, scusa perché mi sembra troppo piccolina Ingrandisco, ingrandisco fino a mi prendo il diamante Però rimpiccioliamo anche questo, ovviamente Altrimenti ci crepiamo Però la mira è un po' strana Rimpiccioliamo così posso passare Mamma mia, come siete agguerriti però Voglio solo fregarmi le cose Non badate a me, non badate a me Allora, qua mi sento su GTA Dove devo rubare l'aereo per carioperico Allora, drag to aim Escape Allora, rimpiccioliamo la gente qua perché già mi ha fracassato È proprio l'aereo, direttamente No E allora che Dovevo rubare l'aereo Scusate Allora lo ingrandisco E vi schiaccio tutti, no Eh sì, fatevi da parte Va che io No, vabbè No, ma sto gioco è incredibile ragazzi Lasciate like se volete Tutta la serie Tutti i livelli di sto gioco Siamo al livello 4 Che si fa, distruggo la po', la rimpicciolisco Così entro Basta tenere premuto Io tre ora a cliccare qua E tizi qua che gli facciamo Ho sbagliato Mi sa dove vorrei Che fare Lo ingrandisco Oh Grande Così Trascinateli tutti Grazie per il tesoro Grazie mille E io tre ora a cliccare Potevamo semplicemente tenere premuto Allora Abbiamo sbloccato questa Però non ho connessione attiva Quindi mi sa che te la puoi tenere Vabbè niente Andiamo al livello 5 Forza Casomai attiviamo la connessione Nel momento in cui dobbiamo sbloccarci le cose Forza later Allora Che fai? Drag to aim Che stai a fa? Non rompere i water Per cortesia Che vuoi passare da lì? Allora Distruggiamo Rimpiccioli a minore Così Guarda Guarda L'ho già fatto Tu ti stai spaccando i piedi Lì Io te l'ho fatto Già A posto Forza 25% New laser Ok Andiamo alla prossima Livello 6 I livelli si fanno proprio veloci Come non so che Rimpiccioliamo qua Get out Dobbiamo uscire E ingrandisco A posto Puoi lasciarti cadere Che faccio qua? Punto qua A posto Ingrandiamo la corda Così Sono cascato Sono morto No Va bene così Va bene così Non ci lamentiamo Next level Livello 7 Forza Allora Che si fa qua? Giustamente sono appena uscito dal container Attenzione Il faro E rimpiccioliamo il faro Va Così non mi potete vedere Guarda qua Me ne vado 4-4 fuori dalla vostra visuale E dopodiché Vi ingigantisco questo Così mi nascondo E non mi potete vedere E via E vi E qua Attenzione Attenzione Andiamo alla Metal Gear E qua mi rimpicciolisco la porta Così passo E via Ma faccio pure a corsetta Tipo Non lo so Vabbè Andiamo al prossimo livello Forza Allora Che si fa qua? Fammi vedere Però è facilitato il fatto che È Illumina gli oggetti Con cui potete interagire E via Che ingrandisco le mutande E che Ah Così Per usarla come vela Però non si muove Si muove? Ah Ok Quindi Ingigantiamo tutte E via Via Che me ne vado Verso nuovi orizzonti Ok New laser Eh ma non ho attivato la connessione Quindi siamo punti a capo Come prima Lo sit Allora Eh adesso siamo sott'acqua Grande così Abbiamo le sirene Mi hanno catturato le sirene Ma dico Ma tutti contro di me Ce l'hanno in questa postaccia Ingigantiamo o no E rimpiccioliamo allora Che è successo? Ossigeno E via anche da questa parte E me ne vado E me ne vado con la chiave Ah no Io ero rimasto intrappolato Ma le sirene forse Forse volevano liberarmi Però non sapevano come fare Forse però Nel dubbio Trova il tesoro Qua ce n'è uno L'ho visto L'ho visto L'ho visto Via E via che prendiamo tutto Perfetto Mappa del tesoro trovata Andiamo Sotto attiva la connessione Do andiamo Mamma mia Un polipetto Che facciamo col polipetto? Salva l'ufo Ma perché? Scusate Un po' rimanere lì Chi se ne frega del lufo Allora Ingigantiamo le bombe O le rimpiccioliamo? Ingigantiamo tutto Però esplode Va bene così? Va bene così? E via che ho salvato l'ufo Perfetto Perfetto Sono stato salvato dagli alieni Quindi probabilmente Adesso saremo con gli alieni Giusto? Giustamente Giustamente Allora Attiviamo la connessione Drag to aim Che vi state a catturare le mucche? Non ve le catturate Allora Aspetta che faccio qua? A chi puntiamo? Attenzione Capito? Drag to aim Fa l'ufo Ingigantiamolo così Possiamo catturarci le mucche E rimpiccioliamo la mucca Giustamente Ha fatto la cacchina Va bene così? Va bene così Allora abbiamo sbloccato Il nuovo laser Forza Perfetto Sbloccato Grande così E vabbè Dico Non è che sarà tanto più diverso Da quello che avevamo No Non credo Ecco Mucchina Piccolina Che sta a fa? Non c'entra È troppo grosso E rimpiccioliamo pure lui A posto Alieni Che cos'è? È uscito un incrocio No vabbè Tra la mucca e il tizio Che Vabbè dico Sblocchiamo pistole Ma non è che hanno tutta Stata differenza Perché alla fine Facciamo sempre la stessa cosa Quindi Ingigantiamo Il propulsore Via Che ce ne Ce ne trasportiamo Nel futuro Back to the future Livello 15 Che state facendo? Non mi distruggete l'auto Che è nuova di zecca Allora Ingigantiamo qua Così Vi annego C'è un uccelletto Qui ingigantiamo anche l'uccelletto Via Grande Così Perfetto La mia auto però non si è fatta niente Ci siamo teletrasportati Grande così Andiamo al prossimo E credo sia l'ultimo Di questa Prima fase Livello 16 Poi vediamo Allora Mi ingigantisco Che cosa? Lo shard E via Lo squalo Lo squalo Mangiate tu Mangia tutti Mangia tutti Vabbè livelli Dico semplicissimi Allora Vediamo se effettivamente Abbiamo completato La prima ondata Di livelli Nuova categoria Sbloccata Tu sei comics bob Non ti fingere un altro Perché sei lui Non ti fingere flinstons L'abbiamo completato A posto Siamo A newbie Effettivamente Proprio c'è lui Come immagine principale Andiamo al newbie Forza livello 1 Livello 1 Forza E dove siamo qua? Dove siamo? Jack Twain Allora Ingigantiamo la nave No rimpiccioliamola Allora Ok E questa è passata Livello proprio Livelli Estremamente Veloci Ok Nella prossima Che fai? Ti ha preso fuoco il culetto E adesso te lo spengo No? Wake him up Tizio ti sta andando a fuoco il culetto Sappilo Sappilo Non fa una PA Ah ti sei buttato però Meglio così Andiamo al prossimo Andiamo al prossimo Forza Next level Andiamo al livello 20 Che fa non ci passa Vi aiuto io Vi aiuto io Tranquilli Il proprietario dico Lo vedrà che È un po' più piccolo Di quello che ha comprato Però dico dettagli Chi se ne frega Andiamo al prossimo Livello 21 Palla Ingigantiamo la palla No Rimpiccioliamola Così passa Ok Via E via E No E la ringigantisco qua E via Che ringigantisco la palla Va benissimo così Forza livello 22 Non te la puoi tenere Tranquillo Tanto ne ho una Che funziona benissimo Chi se ne frega Le nuove armi 22 Che ci fai lì Scusa Scusami Rimpiccioliamo Ah ti guardo Ti guardo Attenzione che ti guardo Che ti fai il bagno Ti guardo Sono uno spione Ciao tizia Come stai? Ma livelli troppo facile Effettivamente Speriamo che diventino Un po' più difficile Andando avanti Allora Tizio macione brutto Con la barba Che fai? Minimum Non mi fa entrare Perché sono troppo basso Eh allora Rimpicciolisciti pure tu Ah no Rimpicciolisco Così posso passare Ecco Adesso posso passare Quindi togliti alle scatole Fammi fare il giro del cavallino Prossimo livello Livello 24 Che stai sonnecchiando Ti aiuta a svegliarti Ti rimpicciolisco il letto No invece te l'ho ingrandito Ma tu stai più comodo Ovviamente così Quindi mi pare di no E rimpicciolisco il sole Ti devi svegliare Svegliati Sei addormentata ancora di più Va bene così Va bene così Va bene così Va bene così Eh livello 25 Allora La buca Qua questo Lo rimpicciolisco Così passi Perfetto La buca è abbastanza grande Ancora più grande La vuoi E' come se i gnubi Effettivamente Beh dico ecco Salve Dinosauro Che ci fa lì Nelle profondità Gli inferi Fatto Questa era fighissima però L'abbiamo persa Meglio così Livello 26 Eeeh Che faccio Le antenne Le ingrandiamo Perché qua Non prende la rilezione A posto Ingrandiamo tutte le antenne Dell'universo Adesso si vede Benissimo 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 Allora al prossimo Arriviamo al 30 Va facciamo 30 livelli Visto che i livelli Si fanno così velocemente Livello Find the Dino Qua c'è uno Qua lo ingrandisco Così No pulcino Dove è il Dinosauro Dove l'avete nascosto Il Dinosauro Ecco E questo è grosso Salve Dinosauro T-Rex Che ci fa qui Da queste parti Visto che lei Dovrebbe essere estinto Andiamo al prossimo Livello 29 28 Allora C'è un camioncino E pulizia Pulisci l'aria Come E qua c'è troppo fumo E Rimpiccioliamo le canne Qua perché c'è troppo fumo Che cos'è Tutta questa inquinazione Proprio scritto Sul vocabolario Zanichelli Allora Andiamo al prossimo 29 29 29 Che fa Mi volete picchiare Guarda che sono grossi Vi rimpicciolisco le armi No Mi ingigantisco Vi rimpicciolisco No No Stop the criminals Ci sto provando Qua Ah li faccio cadere Apple C'era Cadi number one Cadi number two E mi faccio il balletto Ovviamente Perché giustamente Festeggio Questo era fighissimo pure Però lo usiamo lo stesso Livello 30 Che non te la prendere con me Se tu non fai le pulizie Ma che vuoi dalla mia vita E rimpicciolisci Ti va Così non ho più le scate Gattino mangia Bravissimo gattino E il gattino in casa Ci vuole sempre In questi casi Va bene ragazzi Siamo a livello 31 Che faremo Al prossimo video Ecco qua c'è tutto Lo shop di armi Ne abbiamo sbloccata Solamente una Che bello Va bene Se il gioco vi piace Ovviamente Ci porteremo una serie E come sempre Supportatela Lasciando un bel like Iscrivete la canzone Se non siete iscritti Attivate la campanella E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi torniamo Su Brawl Stars Allora E intanto abbiamo Una cassa gratuita Al negozio E quindi Cominciamo con questo Va perché oggi Abbiamo un picco secco Da aprirci Sappiatelo Che senso Tra 5 minuti Il gioco non sarà disponibile Ma lo devi fare Proprio ora Che sto registrando